Il 24 giugno si festeggia ad eredita la natività di San Giovanni Battista ed il 29 agosto la decapitazione del santo. In suo onore si organizza ancora oggi una grande festa civile e religiosa, processione con banda, spilata della congrega, spilata di maggiorette, luminarie, tante cente votive ed infine il tradizionale volo dell'angelo che coinvolge sempre tutti in un toccante momento misto di spiritualità e paganesimo, degno di essere tramandato alle generazioni future. L'angelo, un bambino di circa otto anni, sospeso ad una robusta fune su cui scorre una carrucola alla quale è agganciato, percorre una trentina di metri in una strettoia. Giunto in prossimità della statua del santo, intona un cantico di nove quartine che ricorda la vita del santo, poi accompagnato dal suono festoso delle campane della banda, scompare. In programma per la festività del santo patrono il concerto di Alan Sorrenti che si terrà ad eredita frazione di Ogliastro Cilento questa sera.